ciao ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video get ready with me ovvero make up in 5 minuti in collaborazione con ivana quartuccio ruggiero nulla allora sto usando la palette di extra spice di revolution in collaborazione con youtube una palette che della su tx e nulla mi vedete ancora struccata ma incomincio subito con mettere il correttore farmi già le sopracciglia di aprire la registrazione e poi perché no cominciare a mettere come ho appena detto il correttore dal correttore incomincio con la cipria poi metto l'ombretto l'ho già messo ho messo l'ombretto dell'aspettate un attimo perché non mi ricordo della romance ho messo solo un un unico ombretto romance poi ho messo la cipria e come dire nulla io saluto ivana e fratevo io saluto ivana grazie della collaborazione un bacio a presto ciao 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 ciao